Facciamo questo passaggio virtuale del microfono. Io appunto ho questo piacevolissimo incarico di prendere un po' le redini di questo corso e fare l'allenatore prevalentemente. Quindi sto in panchina e cerco di disporre in campo tutti voi, tutti voi studenti, allievi. Stiamo decidendo su come chiamarci, magari lo decidiamo dopo quando poi inizia l'aula. I partecipanti mi sembra poco, quindi dobbiamo trovare poi anche un nome collettivo per entrare nel ruolo che ci accompagnerà per alcuni mesi, perché il camp in questo momento è previsto a luglio. E quindi da qui a fine luglio questo gruppo farà un percorso molto ricco, abbiamo puntato in alto sia perché chiaramente il bando in qualche modo lo richiedeva, sia perché faccio mie le parole di auspicio e di diatico di Marco Marocco e di Marco Orlando. Siamo in una situazione in cui la politica, che è sempre questa parola ombrello che vuol dire tutto e niente, e che appunto negli ultimi anni è stata molto bistrattata. Spesso ha ragione, perché alcuni esponenti del mondo politico si sono veramente comportati in maniera indegna rispetto al ruolo e alla posizione che hanno occupato. Però è la strada principale, la strada maestra per poter cercare di affrontare tutti insieme i problemi, e da un anno siamo in mezzo a un grande problema, soprattutto cercando di avere cura, mi è piaciuto molto questa sottolineatura dei territori e delle persone, perché sono la nostra ricchezza, sono il nostro valore. Molto spesso ci appoggiamo a valutazioni meramente economiche, e questo ci ha fatto un po' perdere di vista la qualità della vita e anche la qualità dell'agire politico. E sono anche d'accordo, occorre metterci la faccia e avere la possibilità di stare vicino ai cittadini, agli elettori, per alcuni di voi, cercando soprattutto quello che è un bene comune. Io faccio un piccolo preambolo per poi passare la parola a Elisa Palazzi, climatologa del CNR, che ringrazio e che ha accettato di aiutarci con questa chiacchierata di apertura, e semplicemente per provare a raccontarla, l'Agenda 2030, raccontare questo documento. Poi nei materiali che distribuiremo ci sarà anche, diciamo così, il documento originale, che ovviamente è ampiamente disponibile su web, sono una cinquantina di pagine, nemmeno, e che è una lettura davvero interessante, una lettura facile, non è un documento tecnocratico, non è un documento scritto in politichese o in qualche altra, così, lingua un po' ostica, un po' fumosa, è molto lineare nella sua scrittura e quindi è veramente facile e godibile e chiaro nei suoi obiettivi. L'Agenda 2030 è tutto un documento scientifico, perché, lo vedremo fra poco, ha una sua genesi e ha le sue radici, ha dei pilastri su cui si appoggia e c'è molta scienza, scienza anche sociale, cioè noi possiamo anche ovviamente immaginare quando si parla di scienza, di ambiente, pensare a fisica, biologia, chimica, scienze naturali, eccetera, eccetera. In realtà ci sono le scienze sociali, c'è l'antropologia, c'è la capacità di leggere i meccanismi delle persone quando vengono inserite in un contesto, quando crescono in un contesto, ci sono tutte le dinamiche che portano i gruppi sociali, le organizzazioni a a volte prendere delle derive preoccupanti, ci sono delle situazioni vessatorie, iniquie, sappiamo perfettamente quanto il mondo femminile, delle donne, le ragazze in questo momento, anche in Italia, che si considera un paese, diciamo, nei primi dieci dal mondo, un paese di grandi civiltà e di antiche civiltà, abbiamo comunque delle cose che sono da sistemare. Quindi è un testo scientifico perché non è semplicemente una wish list, un elenco di buoni propositi o di cose belle che potremmo raggiungere, perché se andassimo a leggere, a scorrere semplicemente quelli che sono, e li abbiamo anche visti spesso e volentieri, adesso stavo cercando di condividere il video, ecco qua, ecco qua. Ho condiviso il video giusto, lo vedete tutti? Perfetto, grazie. Allora andiamo un attimo in presentazione. Le uguaglianze di genere, l'acqua pulita, l'istruzione di qualità, le città sostenibili, pace e giustizia, istituzioni forti, sono tutti grandi enunciati, ma sono anche la punta di un iceberg, la punta della punta di un iceberg, perché sotto questi titoli, che sono quasi slogan, c'è da un lato uno studio e un punto di partenza che sta indietro nel tempo, e dall'altro ci sono anche tutta una serie di atteggiamenti, di strategie che vengono suggerite. Non imposte, perché ovviamente questo documento che si offre a tutto il mondo, ed è stato firmato dagli stati del mondo, quindi è un documento esecutivo per certi aspetti, e chiaramente da un lato ha delle urgenze, evidenzia delle emergenze, le circostanze, la quantifica, suggerisce degli obiettivi che sono i traguardi. Noi abbiamo i 17 goal, che probabilmente conosciamo tutti perché ormai fortunatamente se ne parla in abbondanza, ma sotto ciascuno di questi goal ci sono dei punti specifici che vengono chiamati traguardi, e quindi non sono tanto i 17 goal, questi sono i titoli, come se fossero il sommario, un elenco, i capitoli di un libro, ma ci sono 169 traguardi, molto precisi, molto dettagliati, che poi vanno chiaramente declinati, collocati nei territori, e quindi è un documento capace di parlare a tutti i paesi del mondo contemporaneamente, perché ciascun paese, ciascun amministratore che lo prende in mano e lo legge, sicuramente ci si ritrova, dice, ah ok, questa cosa tocca a me, tocca al mio territorio, è un'emergenza che ho in casa, e quindi devo occuparmene. Quindi in questo senso, oltre ad essere un documento scientifico, l'Agenda 2030 è anche un documento politico, ed è un documento operativo. Ovviamente l'attuazione di strategie locali, di politiche locali, sta in capo al livello politico in cui l'Agenda 2030 viene eletta, però circoscrive molto bene, e lo vedremo incontro dopo incontro, una serie di traguardi da raggiungere. Andando a leggerlo, e soprattutto leggendo la parte introduttiva, le prime circa 7-8 pagine sono di introduzione, ci sono una serie di punti in cui si racconta sia la genesi che il modo in cui gli estensori del documento hanno lavorato, e anche tutte le istanze, gli scenari che in qualche modo si vogliono raggiungere attraverso questo documento. Leggo alcuni estratti perché sono molto significativi. Intanto il titolo completo del documento è, virgolette, trasformare il mondo, due punti, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quindi iniziamo con trasformare, che è esattamente quello che dovrebbe fare un politico. Noi tendiamo a dire che il politico amministra, ovviamente, perché riceve in qualche modo per l'incarico che copre una serie di situazioni, un territorio, un'istituzione, un servizio, una funzione, e deve portare avanti quello che quel servizio, quella funzione richiede. Però noi sappiamo che in questo momento semplicemente amministrare, nel senso di mantenere, diciamo così, lo status quo, non basta più. Sia perché siamo in un'emergenza, che peraltro è, a volte la dico in maniera anche un po' sorridente e non leggera, la pandemia è un po' una sorta di grande allenamento alla prossima emergenza, che è già lì dietro l'angolo, che è quella ambientale. Gli scienziati, tra poco ne parleremo, la possono raccontare con i numeri e con gli scenari, che grazie all'elaborazione dei dati possiamo concretamente tracciare nei prossimi anni, e quindi noi siamo in qualche modo avvisati, dobbiamo prepararci, e quindi possiamo considerare l'emergenza in corso come una sorta di anche allenamento a cose che dovremmo affrontare poi nei prossimi 20, 30 anni, 40 anni. Quindi la prima parola che è nel titolo è trasformare il mondo, perché ovviamente vale per tutti, due punti, l'agenda. Anche questo è un termine che nella politica, anche nei trattati internazionali, si trova parecchio, però è proprio un bel termine, a parte che è un termine di casa, è una parola latina, e vuol dire le cose da fare. Io sull'agenda io vado a segnarmi quelle che sono le cose che devo fare, e quindi le segno pagina per pagina, le scrivo e le scrivo così, non perché è simpatico farlo, perché mi devo ricordare che il giorno tale devo fare questo e quell'altro, e magari mi segno anche qualche promemoria in anticipo, perché se devo fare una conferenza complessa, non comincio 5 minuti prima rispetto all'ora in cui devo presentarmi davanti allo schermo. Mi preparo per tempo, e quindi nel senso di agenda c'è sicuramente il concetto di cose da fare, perché se non le faccio, porca miseria, mi sono dimenticato, o ho mancato al mio dovere, se no cosa lo scrivo a fare, e nel senso anche di tempo. Io devo prepararmi per tempo, perché se metto una cosa in agenda per settembre e devo consegnare un libro, sarà il caso che cominci a scriverlo, anzi forse sono già in ritardo se comincio oggi, dovevo cominciare prima. Quindi questo è un pochettino quello che andremo a scoprire, quindi quelle cose che sono da fare e in quali tempi sono da fare rispetto a tutti gli obiettivi che qui sono segnati. Leggo ancora un paio di estratti diciamo dalle premesse del documento. Questa agenda è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la posterità. Essa persegue il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare le povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed è un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Gli obiettivi e traguardi qui enunciati sono stimoli e hanno nei prossimi 15 anni una lista di interventi da compiere in aree di importanza cruciale per l'umanità e il pianeta. L'agenda mira a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. I 17 goal sono interconnessi, indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, la dimensione economica, sociale e ambientale. Qui c'è una piccola precisazione perché in questo testo che è scritto nel 2014-15 viene presentato alle Nazioni Unite a settembre del 2015, ecco qua, in questo momento ufficiale che era anche il settantesimo compleanno dell'ONU e c'è stato appunto in quell'occasione un vertice sullo sviluppo sostenibile, hanno partecipato tutti i capi di Stato, i rappresentanti, i primi ministri, anche molti esponenti religiosi e in quel momento è stato presentato ufficialmente il documento che è stato discusso, condiviso ed è stato firmato. Quindi questo documento è vincolante per il nostro Stato, è vincolante perché i nostri rappresentanti in quel momento all'ONU, a New York, lo hanno firmato ed è un documento esecutivo. Dopodiché c'è stata una sorta di pronti via, linea di partenza che è stata fissata il primo di gennaio del 2016, quindi un paio di mesi dopo alla firma ufficiale, e si è ovviamente demandato ai singoli Stati il fatto di organizzarsi goal per goal e stabilire tutta una serie di politiche e strategie operative. È un documento che, come abbiamo visto, è diviso e organizzato in 17 goal, però questi sono poi, diciamo, suddivisi in cinque ambiti, perché lo sviluppo sostenibile ha bisogno di ovviamente pensare alle persone e al pianeta e questi due aspetti sono interconnessi. Se noi non ci prendiamo cura del nostro pianeta possiamo fare chiacchiere all'infinito. Il punto di partenza è avere cura del luogo, dell'habitat in cui ci troviamo, perché da questo habitat dipendiamo in tutto e per tutto. Purtroppo in una società, diciamo, moderna, un po' artificiale, molto tecnologica, noi siamo diventati decisamente antropocentrici, mettiamo noi al centro di tutto come se tutto ruotasse intorno a noi, come se noi potessimo governare qualsiasi aspetto delle dinamiche di questo pianeta. È un'illusione anche piuttosto sciocca, perché il pianeta va avanti. Noi abbiamo già vissuto cinque estinzioni di massa, in cui ogni volta al 40, al 50, in un certo caso anche il 70% delle specie viventi in quell'epoca sul pianeta si sono completamente estinte e la vita è ripartita. Ovviamente sono processi che sono durati milioni di anni, l'ultima grande estinzione, quella di 65-66 milioni di anni fa, quella che ha chiuso l'epoca dei dinosauri e ha aperto, se vogliamo, lo spazio all'epoca dei mammiferi, in cui noi siamo un esponente molto rigoglioso e anche decisamente ingombrante. Però nel momento in cui, e lo vedremo anche con alcuni interventi di scienziati, fra poco ascoltiamo Lisa Palazzi, c'è collegata anche Selvaggia Santin che ci parlerà di acqua e di oceano, sentiremo Piero Genavesi che ci parlerà anche di biodiversità e di tutela degli habitat. Noi probabilmente stiamo all'interruzione, scusate l'interruzione. Quindi noi siamo vicini sull'orlo di una nuova estinzione di massa, fondamentalmente questo deve preoccupare noi, il pianeta ne ha viste già e vedrà anche questa se sarà il caso. Quindi è tutto nelle nostre mani. persone, pianeta, prosperità, perché la prosperità significa poter distribuire quello che abbiamo in maniera, diciamo, più corretta e più rispettosa di tutti i luoghi e di tutte le diversità, che vanno sempre rispettate, ma non per questo una deve prevaricare sull'altra. e ovviamente abbiamo come sottofondo e come raccomandazione quello di lavorare attraverso alleanze, in partnership e ovviamente nella pace e nel rispetto. Uno degli obiettivi di questo corso è anche quello di creare tra di voi una nascente rete, una serie di contatti che possano, come già fa anche nelle sue attività ordinarie e lanci, possono aiutare chi lavora in una cittadina, in un piccolo comune, a trovare innanzitutto condivisione, forse anche conforto qualche volta, ma anche a trovare un supporto, uno scambio di competenze. Non possiamo essere tutti capaci a fare tutto. Un buon amministratore è la persona che ovviamente si prepara e ha una competenza nell'affrontare il ruolo che gli viene affidato, ma è anche la persona che si circonda di esperti, di tecnici che gli lo aiutano a avere una visione più precisa di un problema. Poi chiaramente le responsabilità politiche, le scelte sono le proprie, quella dell'amministrazione, però il fatto di scambiarsi competenze, aiuti, suggerimenti o anche esperienze, è uno degli obiettivi del corso e quindi la partnership sarà in qualche modo curata, la sottolineeremo spesso, e la stessa scelta che abbiamo fatto degli esperti che interverranno in ogni puntata, in ogni lezione, è stata fatta proprio alla luce di fornirvi una serie di riferimenti che lavorano sul territorio piemontese, della città metropolitana in particolare, e che quindi hanno non solo una competenza specifica, ma anche una competenza specifica legata, calata, sulle problematiche del territorio. L'obiettivo, anche un altro pezzo del titolo parla di sviluppo sostenibile, lo sviluppo sostenibile è quello che viene descritto in tanti modi, questa è una delle definizioni ufficiali che l'Agenda 2030 ha fatto propria, soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere le capacità per le generazioni future di soddisfare i loro. Frase molto semplice, secca, nitilissima, che significa però capire quali sono i miei bisogni, quali veri, quali forse un po' indotti da una vita un po' troppo egocentrica, perlomeno parliamo dei paesi occidentali, e cosa significa senza compromettere la capacità per le generazioni future? Perché il problema, come sempre, è quello di misurare le cose, cioè se io so che voglio fare una torta, io devo sapere che ho gli ingredienti in dispensa, se mi manca qualcosa, sapere dove andarlo prendere, in maniera torretta, non rubandolo, non sottraendolo con dei sotterfugi o con delle, in modo ingannevole, e poi capire le dosi, capire il tempo, capire l'energia del forno, eccetera, capire se ho la teglia giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se mi manca qualche cosa, o se facendo quella torta, poi la mia famiglia non avrà più la farina o le uova per fare quello che è giusto fare domani, fra un mese o fra un anno, è chiaro che allora a quella torta magari ci ripenso un attimo e scelgo un'altra strada. Non si tratta di rinunciare a qualcosa, tipicamente, e questa è una sottolineatura che io faccio sempre quando parlo di ambiente e di comportamenti nuovi che vanno, diciamo, pensati e condivisi, si tratta semplicemente di cambiare strada. La doccia calda tutte le mattine o una mattina sì o una no va benissimo, forse devo cambiare il modo in cui mi procuro quell'acqua calda, forse devo rinunciare al boiler elettrico perché deriva da una centrale termoelettrica alimentata a carbone, o forse devo rinunciare e limitare l'uso della calda a gas, perché anche il gas, per quanto sia migliore del carbone, è comunque un idrocarburo, è comunque una risorsa non infinita, posso pensare di usare un pannello solare termico, posso pensare di usare un sistema che mi ottimizza il flusso dell'acqua e quindi io mantengo l'obiettivo, cambio la strada, intacco in maniera diversa e più rispettosa le risorse e soprattutto condivido delle tecnologie, dei modi di fare, dei diversi atteggiamenti al consumo, che è quello che significa fare economia circolare. Altra parola di cui ci riempiamo la bocca costantemente, ma poi ci dimentichiamo. Ne parleremo guardando i vari piani, progetti, aspirazioni che alcune regioni e lo Stato italiano stanno facendo per quanto riguarda i fondi europei, dove un elemento vincolante è usare questi soldi per fare anche il sviluppo sostenibile. Io ho letto delle cose che veramente mi hanno fatto cascare i gomiti, perché chiedere i soldi per fare quel tipo di operazione, in questo momento non faccio esempi, ma sicuramente più avanti vi farò, significa non aver capito nulla di quello che è sviluppo sostenibile ed essere fortemente ignoranti sulle questioni ambientali, sulle questioni di equità sociale, non solo all'interno del nostro paese, ma anche rispetto agli altri paesi del mondo. E alcuni progetti sono evidentemente un tentativo di arraffare soldi europei perché passano a portare la di mano e quindi cerco di approfittarne in maniera assolutamente inconsistente rispetto agli obiettivi che quei fondi si invitano a raggiungere. Ultima cosa, e quando si parla di misura, ovviamente la scienza ci aiuta, questo è un quadro riassuntivo dell'overshoot day paese per paese, cioè il giorno in cui abbiamo in qualche modo esaurito le risorse, quelle che ci spettano, tra virgolette. Noi italiani siamo qui verso il mese di maggio, eccoci qua, 14 maggio. Nel 2020, al 14 maggio, abbiamo esaurito la fetta di beni, di risorse terrestre che ci competerebbe se ci comportassimo in maniera equa e rispettosa verso la generazione attuale e verso le generazioni future. Ovviamente al 14 maggio non si è spenta l'Italia, ha continuato ad andare avanti fino al 31 dicembre del 2020, perché ci sono altri paesi che stanno in qualche modo regalando al mondo occidentale risorse e servizi ecosistemici, aria pulita, acqua pulita, foreste, eccetera, eccetera, loro malgrado non lo hanno scelto. E quindi ci sono dei meccanismi economici che non solo creano disparità a livello di macroeconomia, ma anche disparità sociale, perché in questi paesi tipicamente le donne e le ragazze non godono di tutte le libertà e le opportunità che giustamente meritano, l'ambiente è fortemente distrattato e anche le risorse che sono presenti in quel territorio non sono amministrate e godute a partire dal territorio, ma ci sono delle forti sperequazioni. Quindi Agenda 2030 è un documento che, oltre a essere scientifico, politico e operativo, è anche sicuramente un documento sovversivo e anche militante. Parole un po' desuete, forse, che dobbiamo recuperare dando un'accezione nuova e traguardando il futuro, e sicuramente questo è uno degli obiettivi che ci andiamo a porre e sarà un lavoro fatto tutti insieme. Io mi fermo, poi alcune cose le riprenderemo poi nella seconda parte, dopo le 12, quando inizierà l'aula vera e propria, e lascio la parola e introduco Elisa Palazzi, che è una scienziata del CNR, è una scienziata che si è occupata di clima quasi da subito, dopo una laurea a Bologna in fisica, in fisica medica, in realtà si è occupata di un altro malato, che è il nostro pianeta, di cui si sta occupando, e quindi ha preso un dottorato e è stata poi, ha vinto un concorso ed è entrata nel CNR, di fisica dell'atmosfera, insegna a due corsi all'Università di Torino, a fisica, che si occupano appunto di cambiamenti climatici, e in particolare nei suoi studi è un'esperta di montagne, di ghiacciai, di ciclo dell'acqua sulle zone alte del pianeta. E in virtù di questo è stata anche negli ultimi anni una contributor dell'IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, ne parleremo, che l'ente, l'istituzione dell'ONU, che si occupa specificatamente di osservare, studiare i cambiamenti climatici, avvalendosi del lavoro di alcuni migliaia di scienziati di tutto il mondo, scienziati che eccellono nella loro disciplina, e quindi Elisa Palazzi è stata utile in questo senso, ed è un vanto per l'Italia, anche per Torino, perché Elisa Palazzi è di Rimini, nasce vicino al mare, però arriva a Torino, si innamora di Torino e delle montagne, e quindi abbiamo conquistato una romagnola doc alla nostra città e alla nostra regione. A te Elisa. Grazie. Io ho già condiviso la mia presentazione, spero che la possiate vedere, se c'è qualcosa che non va, fatemi pure un cenno vocale. Allora, come si è capito, insomma io mi soffermerò un po' di più a parlare di clima, dei cambiamenti climatici, o anche crisi climatica, come spesso chiamata oggi, anche nel contesto scientifico. E quindi tra i vari obiettivi di sviluppo sostenibile di cui Andrea ha fatto una panoramica, mi soffermerò principalmente sul numero 13, che è quello relativo all'azione per il clima, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. Come ha già detto Andrea, e come c'è scritto nelle frasi introduttive dell'agenda, in realtà gli obiettivi sono tutti interlacciati tra di loro. E penso che questo emergerà un po' anche dalla mezz'oretta che ho a disposizione per chiacchierare con voi. Allora, inizio proprio con la primissima frase che c'è nella descrizione dell'obiettivo 13 e dice Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i continenti. È la primissima frase. Perché metto questa frase? Perché mi permette subito di parlare di una delle caratteristiche distintive dei cambiamenti climatici di oggi, attuali, e che li distinguono parecchio da quelli del passato, anche più recente della Terra, gli ultimi duemila anni, diciamo, ed è proprio la loro globalità. Cioè il fatto che il cambiamento climatico, come dice quella frase, interessa i paesi di tutti i continenti, significa che è davvero globale. E infatti, come mostrano diversi articoli recenti nella comunità scientifica, il 98% della superficie del pianeta è interessata dal riscaldamento globale e dai vari cambiamenti climatici che a catena ne sono in qualche modo derivati. Io inizierei proprio con il riscaldamento globale, vi farei un po' vedere con questa animazione, che ovviamente dietro nasconde dati scientifici validati, una storia di come la temperatura si è evoluta dal 1880 al 2020 con i colori che rappresentano quelli più verso l'azzurro e cosiddette anomalie negative di temperatura, cioè laddove la temperatura del pianeta è stata più bassa confrontata con una certa climatologia di riferimento e i colori invece gialli o rossi le anomalie positive, quindi temperature più alte della media. Osservate come il mondo cambia colore dal 1880 e a proseguire fino ai giorni nostri. Ora faccio partire l'animazione. Gli anni sono, li vedete in basso, in me. Qui siamo agli inizi del 1900, ancora il mondo è prevalentemente azzurro, ma già a metà del 1900, vedete che si colora un po' più di arancione e di giallo, fine del anni 80, siamo anni 90 e qui siamo gli ultimi decenni, sostanzialmente che ci siamo appena lasciati alle spalle. Animazione che finisce con 2020, vedete, il mondo rispetto ai primi frame è decisamente, sostanzialmente, salvo rare eccezioni, tutto colorato di giallo e di rosso, cioè il mondo si è scaldato. Ci sono davvero pochissime regioni che non hanno visto questo riscaldamento. Si è scaldato dappertutto, riscaldamento globale, ma non dappertutto nello stesso modo. Quindi anzitutto vediamo, ad esempio, che i mari si sono scaldati un po' meno delle terre emerse, che tra le terre emerse ce ne sono alcune che si sono scaldate decisamente di più. Le zone artiche, il Mediterraneo e anche le montagne, anche se la risoluzione spaziale di questa mappa non ce le fa apprezzare così bene, sono tutte regioni che noi definiamo hotspot climatici, cioè dei punti caldi del clima, sia perché si sono in effetti scaldate di più rispetto al riscaldamento medio globale, sia per le conseguenze che questo surriscaldamento sta avendo negli ecosistemi specifici, ma di conseguenza su di noi. Perché, come ha già detto chiaramente Andrea prima, il mondo interconnesso. Noi godiamo e usiamo dei servizi ecosistemici che diversi ecosistemi nel mondo ci forniscono, ma che non ci forniscono più bene o la cui qualità si degrada se questi ecosistemi smettono di funzionare o a loro volta vengono in qualche modo perturbati troppo o alterati. Andrea va con la lettura di quello che c'è scritto nella sezione fatti e cifre dell'agenda 2030 e dell'obiettivo 13 in particolare. Se li sfogliate vedete che ogni obiettivo ha queste sezioni fatti e cifre che riportano appunto i dati consolidati per la parte climatica sostanzialmente presi dall'ultimo rapporto del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici già citato da Andrea, la IPCC. E poi c'è un'altra sezione con i target che pure Andrea prima ha menzionato. Allora, che cosa ci dice un'altra frase nella sezione fatti e cifre? Dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è aumentata di circa 0,85 gradi centigradi. Allora, questo scritto risale al 2015 circa e i dati di riferimento sono quelli del 2013. Sono passati un po' di anni. Vi posso dire che in realtà dal periodo preindustriale ad oggi la temperatura in media sulla Terra è aumentata di un po' più di un grado centigrado che la nostra percezione, il nostro sentire comune sicuramente ci fa percepire come qualcosa di poco conto, come una piccola cosa, perché una differenza di un grado centigrado è qualcosa che pensiamo di non percepire nemmeno sulla nostra pelle, che sperimentiamo quotidianamente durante l'arco di una giornata, ma da un punto di vista climatico un valore così mediato su tutto il globo. In realtà, e lo vedremo guardando agli impatti che questo cambiamento ha generato, è davvero una cosa estremamente rilevante. Vado avanti un momento nella lettura, non per addentrarmi nello specifico in quello che c'è scritto dopo, ma per farvi capire già le connessioni profonde che ci sono tra un cambiamento climatico che ci può sembrare poca cosa e un impatto socio-economico. Per rendere l'idea, per ogni grado in aumento, il raccolto del grano cala del 5% circa. Tra il 1981 e il 2000, a causa del clima più caldo, la produzione di mais, di grano e di altre coltivazioni principali è diminuita in maniera significativa a livello globale di 40 milioni di tonnellate all'anno. Ecco allora che chiamiamo il cambiamento climatico odierno, spesso e volentieri, crisi climatica, perché davvero questi cambiamenti che a volte ci sembrano poca cosa perché forse non ci stanno toccando a noi personalmente, alla nostra quotidianità in maniera così evidente, in realtà hanno tutto il diritto di essere chiamati crisi climatica perché stanno davvero avendo delle conseguenze sul territorio, sulla produzione agricola, sulla sicurezza alimentare e di conseguenza sulle nostre vite. Andiamo avanti però con i dati scientifici, mi riferisco ancora alla prima frase che vi ho fatto vedere prima e vi voglio fare vedere questo aumento di un po' più di un grado centigrado di cui vi ho parlato. Rispetto all'animazione che vi ho fatto vedere prima, la linea nera che vedete qui salire su questo grafico rappresenta proprio l'aumento anno per anno della temperatura media su tutto il globo dal 1880 al 2020. In realtà i dati sono i pallini grigi e i pallini grigi sono proprio la temperatura media misurata in ogni anno mediata su tutto il globo. La linea nera è una media mobile per rendere quella linea meno spezzettata. Ma in realtà è importante guardare la linea grigia spezzettata perché ci fa capire che anche se anno dopo anno la temperatura va su e giù cioè noi siamo in un regime di riscaldamento globale ma non significa che ogni anno è più caldo di quello che lo ha preceduto non è una crescita monotona della temperatura tuttavia se uno va a guardare la tendenza a lungo termine vede che quella linea nera sale. Se non fossimo stati in un regime di riscaldamento globale la linea nera sarebbe rimasta attorno allo stesso livello anno dopo anno o magari sarebbe scesa se invece il mondo si fosse raffreddato. Invece vedete chiaramente che sale e anche se non è estremamente apprezzabile da questo grafico vi posso dire che la velocità con cui sale non è sempre stata la stessa e dal 1980 circa è aumentata in maniera considerevole. Vi ho detto prima che c'è una variabilità tra un anno e l'altro e beh questo ancora scusate è un altro modo molto simbatico chiamiamolo così di riscaldamento si chiamano le climate stripes le ha come dire inventate uno scienziato che chiaramente di nuovo dietro queste linee colorate è plotta e grafica dei dati validati dalla comunità scientifica ma un po' come nel video iniziale i colori rappresentano gli anni più freddi rispetto a una climatologia di riferimento che vi ho indicato sempre qua in basso a destra gli anni rossi più caldi e qui vedete molto chiaramente quello che vi stavo facendo osservare prima l'accelerazione dal 1980 in avanti perché più o meno da quell'anno che è raro trovare un anno che sia colorato di azzurro quindi che abbia un'anomalia di temperatura negativa rispetto al nostro riferimento per dire che tutti questi dati come tutti i dati e gli interventi degli esperti i materiali che gli esperti durante il corso offriranno saranno poi messi in un drive condiviso e quindi tutti voi potrete tranquillamente approfittarne e mi auguro in qualche modo usarli per diffondere anche nelle vostre amministrazioni nei vostri territori nelle vostre associazioni queste chiacchierate e tutti gli esperti saranno comunque poi a disposizione per approfondimenti ragionamenti scambi anche a tu per tu nel momento in cui ciascuno di voi avesse le sue diciamo esigenze o curiosità particolari chiusa parentesi grazie di te a sinistra vedete invece la classifica degli anni più caldi dal 1880 forse vi starete chiedendo perché parlo del 1880 e anche potuto dire 1850 non è che prima non esistessero misure ma prima non esistevano misure così sparse dappertutto sul globo per poterci fare delle analisi scientifiche che avessero una solidità statistica quindi diciamo che dal 1850 in poi noi abbiamo delle misure meteorologiche su tutto il globo che riteniamo essere affidabili e così possiamo abbiamo potuto stilare da quell'anno una classifica degli anni che via via si sono diciamo dimostrati essere i più caldi e se la guardate questi sono i primi 20 19 di questi sono anni che hanno il 2 davanti sostanzialmente tutti quelli dal 2001 in avanti l'unico outsider qua è il 1998 un anno particolarmente caldo caratterizzato da la presenza di un fenomeno di El Nigno fenomeno naturale che riscalda un po' la temperatura media globale gli anni più caldi a pari merito 2016 e 2020 hanno avuto una differenza di temperatura così piccola che li si ritiene diciamo accoppiati a guidare questa classifica che non è che si brama dal desiderio di oltrepassare non ce lo auguriamo affatto a seguire il 2019 2015 2017 e così via quindi un ragazzo di 19-20 anni diciamo sta vivendo la sua vita tutta negli anni più caldi da quando noi abbiamo misure meteorologiche su tutto il globo altri flash che compaiono nella sezione fatti e cifre dell'obiettivo 13 gli oceani si sono scaldati la neve e il ghiaccio sono diminuiti il livello del mare si è innalzato vado avanti perché adesso vi faccio vedere i dati che raccontano esattamente queste cose livello dei mari in crescita un tasso di crescita medio all'anno di 3,3 anche un po' di più in realtà dalle stime più recenti 3,4 millimetri ogni anno questo significa che dal 1880 ad oggi i mari si sono alzati di circa 25 centimetri di nuovo è un innalzamento medio e ve lo fa vedere la mappina colorata che vedete a destra che sarebbe colorata tutta dello stesso colore se il mare si fosse alzato dappertutto dello stesso livello invece vedete che ci sono delle zone più rosse di altre che sono quelle in cui il mare si è innalzato di più questo non ha generato pochi problemi perché lo capiamo benissimo che un innalzamento medio del livello del mare può generare ovviamente problemi al territorio alle vite qualora nel momento in cui ci siano degli episodi di allagamento come avviene anche nelle nostre coste spesso pensiamo a Venezia e pensiamo all'impatto che un livello medio del mare più alto potrebbe avere normali fenomeni di alta marea che per esempio si verificano in quelle località intere isole o tolli del pacifico che stanno oggi programmando e che hanno già programmato migrazioni di massa verso luoghi vicini perché sanno che di qui a una decina o una quindicina di anni i territori dove hanno le loro case le loro attività la scuola e tutto quanto verranno sommersi dal livello del mare quindi ovviamente questo è un problema concreto che spocia in quella che è la sfera sociale della sicurezza e quindi che va a abbracciare tutta una serie di altri ovviamente obiettivi di sviluppo sostenibile i mari si innalzano sia perché i ghiacciai terrestri fondono e lo stanno facendo a un ritmo estremamente accelerato sia perché il mare che accumula più del 90% del calore in più che noi immagazziniamo nel sistema climatico si espande termicamente si scalda quindi abbiamo un doppio contributo all'innalzamento del livello del mare abbiamo parlato di ghiacciai terrestri che fondono uno degli esempi più eclatanti è sicuramente quello della Groenlandia di cui mentre parlo vi faccio vedere di nuovo una piccola animazione che mostra quali sono le aree della Groenlandia che perdono sistematicamente ghiaccio mentre la linea azzurra che vedete a destra che scende mostra la diminuzione e la perdita della massa di ghiaccio groenlandese dal 2002 ad oggi più di 3500 miliardi di tonnellate di ghiaccio sono andate perdute lo vedete soprattutto nelle regioni costiere e uno studio davvero molto recente ha fatto evidenziato che la fusione del ghiaccio groenlandese potrebbe avere oggi raggiunto il suo punto di non ritorno questo significa che non ci aspettiamo che la Groenlandia fonda completamente di qui a poco il processo sarà senza ombra di dubbio molto lungo ma e questa è la parola chiave irreversibile cioè i punti di non ritorno sono punti di irreversibilità che superata una certa soglia di riscaldamento e qui parliamo di quel famoso piccolo apparentemente grado centigrado in più in media su tutto il globo ma nei sistemi non lineari e complessi come il clima a volte basta anche un innalzamento così piccolo per far oltrepassare una soglia critica che innesca un cambiamento lungo ma il ghiaccio marino è estremamente vulnerabile prima abbiamo parlato del ghiaccio terrestre citando l'esempio della Groenlandia che ovviamente non è l'unica l'unico esempio di ghiaccio terrestre ma abbiamo anche le grandi porzioni di ghiaccio marino ad esempio la banchisa artica cioè quando l'oceano quando l'acqua del mare si congela come avviene appunto nel mar glaciale artico che sta subendo e facendo vedere molto chiaramente i segni dell'aumento di temperatura negli ultimi 40 anni circa il mar glaciale artico ha perso un'estensione di ghiaccio pari a quella di 10 italie se volete avere un po' un'idea di quanto ghiaccio davvero non ci sia più abbiamo abbiamo perso un attimo Lisa Palazzi adesso sicuramente la connessione si ripristina le approfitto per fare una sottolineatura tutti i dati che riguardano la situazione dell'ambiente intesa come la situazione che sta vivendo il pianeta in questo momento sono quelli che poi stanno alla base delle politiche sociali e di macroeconomia se il mare si alza è chiaro che la pesca un porto o l'attività turistica su un litorale può andare in crisi se a quella pesca partecipa una cooperativa di donne e perché in qualche modo gli hanno dato l'ultimo pezzetto libero perché in quanto donne non le hanno considerate troppo e queste vanno in difficoltà con un'attività da poco stavo colmando un attimo la piccola defiance quindi cosa è successo? è andata via diciamo che da ghiaccio marino in poi ci sei scomparsa anche cittia infatti adesso tu fai un rewind io finisco una piccola fase che avevo usato per tappare il buco quindi tutto quello che riguarda le fatiche che i territori subiscono affrontano per il cambiamento climatico e per gli effetti della crisi climatica riguarda molto spesso la società riguarda persone e le più vulnerabili sono sempre le donne e i bambini e quindi avere una visione d'insieme significa vedere più lontano e non andare a tentare di recuperare una situazione con una politica che in realtà è conservativa o problemi alla industria sciistica quindi faccio qualcosa per migliorare l'industria dello sci ma se il ghiaccio me lo perdo e fra dieci anni e vent'anni ne avrò sempre meno e le montagne saranno sempre meno innevati che cosa insisto in un tipo di economia che andrà sempre più in difficoltà cambio la mia strategia quindi avere dei dati che ci fanno degli scenari da qui a 30-40 anni molto affidabili sottolineo molto affidabili perché questi dati e l'inerzia che il pianeta sta vivendo sono se sono in autostrada ho il casello a due chilometri ho un cartello che mi avvisa pagamento pedaggio io che faccio posso frenare l'ultimo minuto tipicamente mi schianto o divelgo la staccionata oppure scalo la marcia metto un rallento metto il motore in folle uso il freno per arrivare a fermarmi e pagare il mio pedaggio la sbarra senza nessun disagio per me per i miei passeggeri senza mettere a rischio gli organi meccanici della macchina e potendo ripartire quindi studiare quello che sta capitando al pianeta grazie al lavoro degli scienziati mette i politici e i decision makers nelle condizioni di modificare per tempo le strategie sul territorio chiaramente se c'è la volontà di farlo perché se la volontà è devo farmi rileggere fra tre anni beh allora è tutta un'altra storia prego Lisa vado avanti con il ghiaccio marino che è appunto un altro tipo di ghiaccio che non poggia sulla sulle calotte continentali o che sta in montagna ma è il ghiaccio che fondamentalmente acqua di mare congelata il ghiaccio che galleggia sull'acqua un altro problema molto rilevante non perché la sua fusione porti all'inalzamento del livello del mare ma perché innesca dei meccanismi di amplificazione del riscaldamento stesso di cui a brevissimo vi raccomando qui vi faccio vedere l'evoluzione del ghiaccio marino artico quindi del ghiaccio che fondamentalmente ricopre il mar glaciale artico vedete che anno dopo anno ha una sua variabilità ma di nuovo la linea rossa che si sta disegnando vi mostra che oltre a questa variabilità tra un anno e l'altro esiste una tendenza a lungo termine che denota un calo sistematico dei milioni di chilometri quadrati di ghiaccio che ricoprono il mar glaciale artico negli ultimi 40 anni circa cioè da quando è iniziata questa serie di misure da satellite il mar glaciale artico ha perso una superficie di ghiaccio pari a quella di 10 italie se vogliamo un minimo diciamo quantificare qual è il problema enorme legato alla fusione del ghiaccio marino artico come del resto di quello continentale è l'innesco di questo meccanismo di amplificazione del riscaldamento stesso che aveva generato quella fusione perché cosa succede quando ho il mare che è ricoperto di ghiaccio come di solito accade nella stagione fredda al polo nord che ovviamente quando arriva la radiazione solare e incide sulle superfici bianche del ghiaccio del mare ghiacciato questa radiazione solare viene rispedita indietro al mittente non contribuisce a scaldare perché viene riflessa grazie alle proprietà del colore bianco di riflettere la luce del sole ma come vedete in questa foto quando il ghiaccio marino tende a fondere e lascia sotto l'oceano l'oceano è più scuro è un ottimo assorbitore di radiazione solare la radiazione solare penetra nell'oceano lo scalda e chiaramente scaldandosi poi l'oceano a sua volta riemette calore un calore che fa fondere ancora di più il ghiaccio rimasto e che fa surriscaldare ancora di più il pianeta perché poi il ciclo si ripete indefinitamente andando a sommarsi ogni volta all'effetto del ciclo precedente ecco perché si chiama retroazione positiva non perché sia una cosa buona ma perché ogni volta che il giro si ripete l'effetto si somma a quello del giro precedente amplificando l'effetto iniziale che era quello del riscaldamento quindi la fusione del ghiaccio marino come la fusione dei ghiacci nelle montagne o dei ghiacci della Groenlandia che scoprono non il mare ma zone di terreno sottostante più scuro amplificano il riscaldamento questo è uno dei motivi per cui l'artico o le montagne per esempio si sono scaldati di più rispetto all'aumento medio globale non un grado centigrado come vi ho detto all'inizio ma almeno del doppio ecco un esempio di montagna questo è ciò che resta in settembre del ghiacciaio della Marmolada ovviamente in inverno si ricopre di neve ma il problema è che spesso e volentieri le nevicate invernali nei ghiacciai italiani con rare eccezioni come avviene ad esempio nelle Alpi Giulie non compensa la fusione estiva quindi la neve che cade in inverno viene tutta fusa in estate e il caldo è così intenso che spesso intacca anche il ghiaccio dell'anno precedente il ghiaccio pluriennale quando un ghiacciaio si presenta in queste condizioni sapete bene che di bianco che riflette la luce del sole ce n'è ben poco e quindi quel meccanismo di amplificazione del riscaldamento anche in questo caso è estremamente attivo altri problemi legati al caldo per esempio nelle regioni di montagna sono la fusione della neve e lo scongelamento del permafrost ve li cito perché entrambi hanno delle ripercussioni sociali economiche su territorio e quindi su di noi davvero rilevanti la fusione della neve la fusione della neve normalmente avviene verso fine primavera inizio estate e questo cosa significa che l'acqua di fusione della neve arriva a noi a valle e proprio nel momento giusto con le tempistiche giuste quando ne abbiamo bisogno in estate quando è caldo quando piove poco ma cosa accade come sta accadendo quando la neve fonde prima già a fine inverno inizio primavera che l'acqua di fusione rischia di essere già finita in estate quando ne abbiamo più bisogno e lì dobbiamo essere oculati e capaci di raccoglierla e tenerla da parte per poterla poi usare successivamente al bisogno questo noi lo facciamo abbastanza efficacemente ma ci sono dei posti nel mondo vedi sud-est asiatico per esempio dove tutto questa azione di adattamento di prevenzione in qualche modo del possibile danno futuro non vengono messi in campo con altrettanta efficacia l'acqua è persa non perché scompaia nel nulla dato che fa parte del ciclo inesauribile dell'acqua ma magari va a finire nel mare dove per essere utilizzata necessita di dispendio di energia e di denaro vedi ad esempio i processi di desalinizzazione ovviamente estremamente importanti scongelamento del permafrost altro problema rilevante che riguarda soprattutto le regioni artiche a dire il vero ma che non è assente nemmeno in montagna da noi ad altissime quote il terreno sempre congelato tutto l'anno per almeno due anni di fila la particolarità e il potere positivo di questo terreno congelato è che essendo tale tiene davvero saldo tutto ciò che ci sta sopra in qualche modo ma se si scongela perché il riscaldamento penetra sotto il suolo non è che si ferma alla superficie nello scongelarsi il permafrost si sgretola diventa anche molliccio perché ovviamente terreno congelato se contiene acqua è acqua ghiacciata ma che col caldo diventa liquida e quindi frana si sgretola e genera fortissimi problemi di sesto di smottamenti smottamenti come ad esempio è avvenuto nell'estate del 2013 anche nelle nostre Alpi in seguito alla fortissima del 2003 scusate ondata di calore che ha caratterizzato quell'anno e che è rimasta storica nella serie delle ondate di calore anche successive un altro problema grandissimo del permafrost è che nel momento in cui questo gigante dormiente del clima come è stato da molti chiamato si sveglia come sta facendo sprigiona carbonio organico che aveva intrappolato sotto forma di metano soprattutto e di CO2 ma soprattutto di metano gas a effetto serra che vanno a finire nell'aria e fanno il loro ruolo di gas serra aumentando ancora di più il riscaldamento del pianeta altro meccanismo di retroazione quindi fa caldo il permafrost si scongela fa fuoriuscire gas metano il metano è un gas serra potente fa aumentare ancora di più il riscaldamento e via che il ciclo riparte già tre meccanismi di retroazione abbiamo visto qui stiamo assistendo con pochi problemi poi sul territorio di nuovo su di noi sulle risorse eccetera sono gli eventi estremi meteoclimatici che si stanno verificando in alcuni casi con maggior frequenza ma sicuramente in quasi tutti con maggior intensità vi faccio una carrellata di esempi questa è la tempesta vaia che ha colpito le alpi le dolomiti insomma l'italia in generale nord orientale ottobre 2018 questa è una foto due anni dopo vaia ancora vedete ovviamente una situazione di disastro gli effetti degli schianti di vento venti massimi fino a 200 chilometri orari un'energia nuova che l'atmosfera ha che raccoglie da i mari estremamente caldi e che si scaldano molto durante l'estate e che quindi non solo fanno accumulare nell'aria tanto vapore acqueo che sarà poi il mattoncino spesso e volentieri di altri fenomeni estremi di cui andiamo a parlare tra poco ma anche appunto di un'atmosfera estremamente energetica che in qualche modo l'energia la deve liberare le alluvioni appunto sono un'altra caratteristica importante degli effetti del riscaldamento globale eventi estremi alluvionali precipitazioni più rare ma più concentrate in una località come è successo qua in alcune località tra Piemonte e Liguria nell'ottobre del 2020 eventi ha avuto una quantità di acqua in un giorno pari a quella che di solito piove in sei mesi in mezzo anno quindi tutta concentrata in un luogo e in un momento questo chiaramente quando il luogo è vulnerabile ma a fronte di fenomeni del genere anche difficile non avere comunque impatti e conseguenze è ovvio che eventi di questo tipo diventano molto facilmente eventi catastrofici ok altro lato della medaglia alluvioni da un lato sì ma dall'altro abbiamo le siccità sembrano due cose contrapposte eppure sono davvero due manifestazioni dello stesso problema le due facce della stessa medaglia le siccità quando non piove a lungo per lungo tempo come ad esempio quella del 2017 in Italia anno più secco degli ultimi 200 anni una siccità che rende i terreni ovviamente poi più difficili da coltivare che genera problemi di rese agricole importanti nel 2017 la Coldiretti ha poi stimato per oltre due miliardi di danni all'agricoltura che ne sono derivati quella siccità ha investito l'Italia intera da nord a sud e le montagne erano completamente secche i nevai si erano prosciugati in anticipo molti rifugi alpini hanno cessato le loro attività in anticipo perché non avevano più i nevai da cui trarre l'acqua per farli funzionare ma non sono badate bene solo le siccità estive che tutto sommato si possono mettere in conto che ci preoccupano sono quelle che stanno avvenendo sempre di più fuori stagione in autunno in inverno laddove il territorio si dovrebbe caricare soprattutto il suolo e il sottosuolo si dovrebbero caricare dell'acqua che poi serve successivamente ecco sono quelle siccità che oggi preoccupano anche molto chiamiamole così fuori stagione perché non permettono di farsi le riserve di umidità e di acqua che servono e allora quando questo succede nelle zone montane dove in italia abbiamo la maggior parte delle foreste capiamo bene che laddove inizia per qualche motivo tendenzialmente antropico ma non solo un incendio un terreno secco che non vede l'acqua da mesi ecco fa propagare quell'incendio con molta più rapidità un'altra conseguenza dei cambiamenti a cui stiamo assistendo ondate di calore lo devo citare perché sono tra quelle che generano più stress per la nostra salute e tra quelle menzionate spesso come le manifestazioni più importanti del legame strettissimo che esiste tra cambiamento climatico e salute il cambiamento climatico sta generando già moltissimi decessi l'anno e quasi il doppio ne sono previsti alla metà del secolo rispetto a quelli che si sono già verificati proprio per gli stress da ondate di calore qui di nuovo un esempio del 2017 2017 è stato un anno dunque sia secco sia molto caldo ma ce ne sono state diverse ve le ho elencate lì sotto anomalie positive di temperatura guardate anche in Italia dove c'è il rosso proprio più intenso di 5-7 gradi centigradi in più rispetto a quello che ci sarebbe aspettati per quel periodo guardando la climatologia storica ecco allora capite che anche questo chiaramente ha un impatto che non riguarda certamente solo il territorio la natura che è già grave di per sé ma ovviamente va a incidere profondamente anche sulla nostra salute quindi abbiamo degli impatti che fanno del cambiamento climatico sicuramente una vera e propria crisi climatica il problema spesso è che là dove abbiamo paesi più vulnerabili questi impatti sono ancora più gravi quindi abbiamo i paesi soprattutto in via di sviluppo che sono quelli più inclini agli effetti negativi delle inondazioni delle siccità in quei paesi dove gran parte dell'economia si basa ad esempio sull'agricoltura questo chiaramente comporta che cosa problemi di conflitto approvvigionamento idrico migrazioni per andare a cercare dei posti dove si possa coltivare qualcosa dove si possa mangiare dove si possa far crescere la propria famiglia i paesi più vulnerabili i paesi in via di sviluppo sono anche quelli con minor capacità di adattamento poi vedremo in che cosa consiste questo adattamento che è sicuramente una delle armi che abbiamo per far fronte al riscaldamento e quindi di nuovo non c'è equità e se dobbiamo combattere il cambiamento climatico dobbiamo farlo in modo tale che questo sia anche motore chiaramente di sviluppo equo e di giustizia perché altrimenti non andiamo da nessuna parte questo è importante perché questo ci fa di nuovo capire come gli obiettivi di sviluppo sostenibili non siano fatti e pensati a compartimenti stagni ma siano tutti profondamente intrecciati tra loro vi volevo ancora dire qualcosa il tempo forse stringe se ho ancora cinque minuti vi volevo parlare di una cosa in relativa alle emissioni perché un'altra cosa che compare nel fatti e cifre dell'obiettivo 13 riguarda ovviamente le emissioni che sono aumentate dal 1990 ad oggi circa del 50% vedete qui il forte aumento delle emissioni che derivano soprattutto quelle di CO2 dalla combustione dei combustibili fossili tutta quell'area grigia dall'industria del cemento e dai cambiamenti nell'uso del suolo le emissioni sono aumentate sono aumentate per il settore soprattutto della produzione di energia elettrica di calore per il settore dell'agricoltura allevamenti intensivi parliamo spesso di quel tipo di agricoltura ad esempio industriale che viene anche promossa andando a disboscare delle zone quindi andando a fare male doppiamente al clima perché chiaramente togliere le foreste significa togliere dei serbatoi di CO2 importanti importante anche notare che quando noi emettiamo con queste attività che vi ho detto gas a effetto serra in atmosfera questi non si traducono direttamente in concentrazioni che si accumulano nell'atmosfera stessa grazie al fatto che noi abbiamo degli elementi naturali che tolgono un po' delle nostre emissioni fortunatamente sono appunto le foreste e gli oceani ma non abbastanza di quello che noi abbiamo emesso dal periodo preindustriale ad oggi circa il 50% è stato assorbito dalle foreste e dagli oceani ma il 50% è rimasto e ha fatto salire il livello di CO2 nell'atmosfera un po' come un rubinetto lasciato aperto che è quello delle nostre emissioni farebbe salire il livello di acqua in quella vasca se non ci fossero delle perdite che compensassero esattamente le nostre emissioni e non è così ci sono delle perdite in questa vasca ripeto oceani e vegetazione ma non abbastanza da compensare quel rubinetto aperto noi dobbiamo chiudere quel rubinetto sostanzialmente quello che noi dobbiamo fare attraverso la mitigazione è andare a chiudere il più possibile non riusciremo mai a farlo completamente ma chiudere il più possibile il rubinetto delle emissioni nel 2020 con il lockdown lo abbiamo stretto molto le emissioni si sono ridotte di circa il 7% nel 2020 che è una riduzione che noi dovremmo applicare qualcosina di più in realtà di qui al 2030 per raggiungere in qualche modo i target voluti dall'articolo 2 dell'accordo di Parigi ma quello che abbiamo fatto l'anno scorso non è stato così benefico per il clima abbiamo chiuso quel rubinetto ma le concentrazioni di CO2 nell'atmosfera sono continuate ad aumentare comunque ben più lentamente di quanto non avessero fatto se non ci fosse stato il lockdown quindi la mitigazione consiste nel andare a produrre sostanzialmente energia in modo diverso cioè non bruciando i combustibili fossili che hanno determinato questo surplus di gas effetto serra nell'aria ma sfruttando le energie alternative e sfruttando i benefici della tecnologia che se pulita sia a basso impatto chiaramente ci potrà aiutare io ho tutta una serie di ricordi che ti voglio farvi vedere ma dicemi voi perché potrei andare avanti ma magari mi fermo grazie Elisa anche perché ovviamente questo l'obiettivo 13 è stato particolarmente la ribalta in questo intervento ma è anche poi ha un suo spazio durante il durante il proseguo del corso ci interessava sottolineare appunto come il documento Agenda 2030 come dicevo prima è un documento scientifico perché in tutte le sue parti e andremo a vedere chiaramente anche negli altri punti più quelli che riguardano le persone il punto di partenza per stabilire i traguardi è l'analisi non solo dell'oggi ma anche di tutto quello che ci ha portato a oggi continuiamo ad avere problemi con la malnutrizione con la 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 bassa cioè l'alta incidenza di morti di bambini morti prima dei due anni continuiamo ad avere grandissime disparità rispetto alle opportunità delle donne e delle ragazze anche nei paesi occidentali non solo in quei paesi dove c'è per motivi culturali una tra virgolette denigrazione della donna ma c'è anche tutto un aspetto che riguarda poi chiaramente l'economia noi abbiamo dei dati scientifici che riguardano l'ambiente li compariamo con i dati diciamo scientifici statistici economici che riguardano il lavoro che riguardano le merci che riguardano diciamo la globalizzazione in cui siamo inseriti ormai da 30 40 anni e mettendo insieme le cose possiamo vedere che certe politiche o certi meccanismi rischiano di incastrarsi molto presto il lavoro c'è si tratta di spostarlo non posso più fare una certa attività con la stessa efficacia con lo stesso successo di prima perché mi cambia il clima intorno se lo so per tempo faccio delle politiche per spostare il lavoro da un settore a un altro perché contemporaneamente altri settori cominciano a avere bisogno di teste di mani di cuori e così via e questo riguarda ovviamente tutto il mondo ma lo vedremo anche per quanto riguarda il nostro territorio ringrazio Elisa Palazzi per essere qui con noi oggi grazie a voi scusa Andrea ti interrompo scusami Andrea ti interrompo secondo solo perché ci sono delle domande sì grazie noi non abbiamo giusto è vero scusateci poi con con l'aula e con le attività in zoom sarà poi più facile intervenire e vi caldeggeremo a intervenire c'è una domanda in chat Elisa se aspetta che la vado a recuperare il tasso di assorbimento di CO2 da oceani e di foreste è stato costante l'ultimo secolo e questo meccanismo ci è tutelato fino ad ora per il 50% potrebbe rallentare e diventare meno efficace sì la risposta è proprio netta a questa domanda e sì ci ha tutelato ha fatto ci ha aiutato molto a mitigare il riscaldamento che altrimenti sarebbe stato più elevato le foreste attraverso la fotosintesi quindi diciamo assorbono la CO2 dell'area ma anche la CO2 che è nell'aria viene disciolta poi anche negli oceani e più o meno il 50% più o meno in ugual misura ma è qualche cosa che si sta in qualche modo in realtà rovinando perché da una parte le nostre azioni spesso nel per esempio deforestazione hanno tolto ovviamente quello che sono gli assorbitori naturali foreste e dall'altro perché un oceano più caldo è meno capace di fare questa azione di scioglimento in qualche modo della CO2 anzi in qualche modo un po' come una Coca Cola lasciata aperta al sole dei gas allo stesso modo lo fanno gli oceani quindi sì il riscaldamento sta anche in qualche modo agendo con un'altra retroazione se volete sugli oceani che riscaldandosi sono meno capaci di fare questa azione di assorbimento della CO2 per cui chiaramente questa capacità degli assorbitori naturali non è rimasta costante nel tempo e si sta si è un po' ridotta chiaramente questo fa pensare che una possibile buona pratica potrebbe essere quella di piantare per esempio molti foreste molti alberi addirittura si fanno tanti conti su quante porzioni di superficie si possano piantare si possano riafforestare per risolvere questo problema ecco non è lì la soluzione del problema è ovvio che piantare alberi serve aiuta ma è soprattutto poi la gestione delle foreste che le fa dei buoni assorbitori o meno e di nuovo non esclude anzi non implica evitare di agire alla radice del problema che è appunto smettere di emettere chiudere o stringere il più possibile quel rubinetto grazie abbiamo anche un sacco di buone notizie durante il corso avremo anche delle ottime notizie perché gli scienziati offrono degli scenari ci danno dei dati noi li interpretiamo e poi sono gli amministratori attenzione nessuno scienziato dice adesso voglio governare il mondo così e cos'ha la scienza mette a disposizione un'interpretazione molto precisa molto qualificata della situazione ma poi sta all'amministratore decidere da che parte andare sia in quanto politico ma anche in quanto consumatore quindi in qualche modo orientare tutta la parte che riguarda la produzione di beni e servizi in una direzione che ci che ci immaginiamo e che sappiamo essere più sostenibile sia per il pianeta ma anche rispetto per le le strati i strati di società che in questo momento sono più emarginati e più fragili questo corso si chiama l'abbiamo detto e anche Gianna Betta l'ha strutturato all'inizio amministrare comunicare con rispetto la comunicazione è una parte fondamentale della vostra azione di amministratori ma anche e mi rivolgo a quella parte dei corsisti che sono più rappresentanti della sua civile essendo all'interno di un'associazione o di un altro organismo comunicare i vostri obiettivi è importante perché tutto va diciamo ulteriormente rinforzato e quindi una componente fondamentale di tutti gli incontri sarà appunto la comunicazione le strategie di comunicazione delle buone pratiche di comunicazione e questa parte viene curata da Carla Gatti direttore della comunicazione della città metropolitana di Torino a cui lascio la parola e la ringrazio per essere qui oggi con noi grazie grazie a voi buongiorno ben trovati buongiorno a tutti e tutte e mi spiace cambiare così drasticamente argomento e passare da questi temi trattati magistralmente veramente da Elisa Palazzi che è stata affascinante nella sua spiegazione anche di problemoni per il nostro pianeta io vi faccio fare un bagno di pubblica amministrazione mi scuso se qualcuno di voi saprà già benissimo le cose che vado a dire sembra strano parlare di comunicazione pubblica perché ormai al giorno d'oggi siamo tutti giornalisti siamo tutti comunicatori siamo tutti capaci di superare le mediazioni della comunicazione dell'informazione pubblica e molto spesso poi assistiamo a qualche guaio allora io magari nel corso di queste lunghe giornate di formazione avremo modo anche con altri colleghi che lavorano con me di vedere best practice o problemi che hanno che sono stati creati da una cattiva comunicazione pubblica io per oggi vorrei dato che è la giornata introduttiva fare proprio un inquadramento su quella che è la comunicazione pubblica sulle sue basi sulle sue origini e molti sicuramente sono essendo già amministratori lo sanno ma magari non è nemmeno detto sarà capitato a qualcuno di voi in una pubblica amministrazione sentire qualche battutina su chi fa l'ufficio stampa su chi fa il comunicatore pubblico ah vabbè ma voi che lavoro fate che lavoro è voi vi divertite tutto il giorno ecco questa considerazione della comunicazione pubblica è proprio quella che crea poi i danni allora io intanto comincio a dirvi ripeto magari lo sapete che la comunicazione pubblica è normata per legge nel nostro paese e ha 21 anni solo 21 anni paradossalmente la legge è la numero 150 è del 2000 e si chiama disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni oggi è il caposaldo della normativa della comunicazione pubblica ed è l'unica legge in realtà dovrei dirvelo alla fine ma ve lo dico adesso è stato aperto da qualche mese un tavolo presso il ministero della funzione pubblica che si chiama legge 151 cosa vuol dire che si sta lavorando al superamento della legge 150 perché 21 anni dopo Bontaloro ci si è resi conto anche da parte dei legislatori nazionali sulle sollecitazioni della base che forse è il caso di aggiornare questa normativa pensate solo in 21 anni ma molti di voi erano nel girello probabilmente 21 anni fa pensate solo in 21 anni come è cambiata la comunicazione e l'informazione nel nostro paese anche quindi all'interno della pubblica amministrazione quindi con la legge 150 del 2000 la comunicazione pubblica è stata per l'unica volta istituzionalizzata e ha ottenuto un riconoscimento esplicito e anche una legittimità nell'apparato normativo italiano ed è stata distinta proprio per norma dalle altre attività interne alla pubblica amministrazione questa legge ha definito gli strumenti e i soggetti della comunicazione pubblica e presenta sia l'informazione che la comunicazione come una risorsa indispensabile è uno degli elementi principali dell'attività di una pubblica amministrazione io non so se il nostro vice sindaco metropolitano è ancora collegato o meglio so che è collegato ma magari sta lavorando e non ci ascolta però lui potrebbe essere un valido testimone per dire come sia difficile per chi fa il pubblico amministratore prendere consapevolezza dell'importanza di queste parole che vi ho appena detto naturalmente quando ci si insedia si diventa sindaci consiglieri comunali bene i piccoli so bene che non ci sono gli uffici stampa e gli urp però diciamo in un ente medio quando ci si insedia probabilmente si pensa di non aver bisogno di chi fa la comunicazione pubblica ripeto perché negli anni siamo diventati tutti molto autonomi e invece è una legge che lo dice anche se ve lo dico subito la legge 150 non impone per nessuna amministrazione delle sanzioni pecuniarie e quindi capite benissimo perché in questi 21 anni è stata applicata male o perché in alcune pubbliche amministrazioni non è stata applicata per niente io non voglio pensare che la legge futura quella che chiamiamo simpaticamente 151 che naturalmente avrà un altro numero non voglio pensare che questa legge debba mettere delle sanzioni per prevedere che davvero tutte le pubbliche amministrazioni si dotino di uffici di comunicazione di informazione con l'esterno e con l'interno però insomma diciamo che sarebbe davvero molto molto importante una cosa che è importante sottolineare è che benché la legge sia vecchia e datata l'articolo 1 prevede chiaramente un orizzonte di riferimento quanto mai attuale l'orizzonte di riferimento per l'attività di informazione e comunicazione istituzionale è la trasparenza e l'efficacia della pubblica amministrazione quindi in qualche modo la legge si ispira ai principi della riforma della pubblica amministrazione che si riverberano nell'attività di comunicazione e di informazione prevede come state sentendo già dalle mie parole una forte differenza tra l'attività di informazione e di comunicazione all'interno della pubblica amministrazione l'attività di informazione quella classica dell'ufficio stampa quella che faccio io tutti i giorni ma non faccio solo questa faccio anche comunicazione perché ho una piccola squadra che collabora con me l'attività di informazione è quella destinata all'esterno ai mezzi di comunicazione di massa si chiamavano così una volta e si realizza attraverso la realizzazione di comunicati stampa videocomunicati canali audiovisivi e naturalmente sempre più oggi gli strumenti telematici si chiamavano così nella legge a disposizione oggi li traduciamo con la parola social il compito della informazione della pubblica amministrazione è consentire scusate leggo ma vi voglio dire esattamente le parole della legge consentire una diffusione omogenea e coerente dell'immagine dell'ente quindi naturalmente è un'attività che nasce ogni giorno nasce si inventa e ogni giorno si modifica attraverso la narrazione e la divulgazione dell'attività all'esterno all'esterno con i mezzi di comunicazione che sono mediatori di quello che l'ente la pubblica amministrazione un ente un comune una città metropolitana una regione un ministero un governo fanno ogni giorno ed è fondamentale che lo dicano lo dicano ai giornalisti che lavorano nei mezzi di informazione perché sono loro che fanno la mediazione con i cittadini lo so che i social hanno superato questo tema ma io resto convinta dell'importanza fondamentale dei mezzi di informazione ben gestiti che medino veramente le informazioni a vantaggio del cittadino e facciano chiarezza altra cosa è l'attività di comunicazione l'attività di comunicazione si divide evidentemente in comunicazione esterna ed interna quella esterna a chi si rivolge direttamente ai cittadini ovvio alle altre amministrazioni agli enti all'impresa alle associazioni a tutti quanti attraverso la comunicazione esterna si contribuisce a costruire la percezione della qualità che il servizio del servizio che la pubblica amministrazione offre e naturalmente parliamo di customer è il canale di ascolto e di verifica del livello di soddisfazione di quello che è il nostro cliente chi sono i clienti della pubblica amministrazione i cittadini evidentemente c'è poi invece la comunicazione interna che è altrettanto importante la comunicazione interna è quella che fa comunità all'interno di un ente pubblico di una pubblica amministrazione piccola media o grande che sia chi lavora deve sentirsi parte di un progetto deve sentire uno spirito di comunità all'inizio di questa presentazione questa mattina ormai un paio di ore fa l'amico Marco Orlando che saluto e mi complimento ancora per il suo intervento l'ho già fatto prima con un messaggio ha detto ha detto bene vi ha fatto l'esempio di un errore nella riforma istituzionale che è stata la legge del rio con la presunta caccia al colpevole di tutti i mali dell'umanità che erano le province e la modifica da provincia a città metropolitana ecco noi dipendenti di città metropolitana quindi le colleghe Gianne Emanuela Enrica Monica che con noi stanno sentendo questa mattina siamo stati vittime della modifica istituzionale che ci ha trasformato da provincia di Torino con la sua storia del 1859 a città metropolitana di Torino io dal 2015 ogni giorno cerco di raccontare che cos'è la città metropolitana di Torino perché non ci chiamiamo più provincia che cosa facciamo ma sappiate che faccio fatica anche con molti sindaci fanno fatica loro faccio fatica io perché mi viene ancora spesso da dire provincia le modifiche nella pubblica amministrazione sono lente e faticose da assorbire ma quando i dipendenti non hanno più spirito di comunità è l'ente che fa fatica ad andare avanti i dipendenti della pubblica amministrazione hanno fatto un grandissimo sforzo nel cambio di pelle e cerchiamo di mantenere la barra dritta avere lo spirito di comunità è anche una delle occasioni che vengono costituite da quella che si chiama comunicazione interna torno alle finalità delle attività della legge 150 ve ne numero sono 8 mi pare sintetizzate favorire la conoscenza delle leggi insomma delle norme diciamo dell'attività della pubblica amministrazione per facilitarne l'applicazione da parte dei cittadini favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendo nella conoscenza favorire processi interni di semplificazione delle procedure guardate in 21 anni spero che non lo tocchino perché la semplificazione non c'è stata tantissimo quindi questo è fondamentale favorire la conoscenza del percorso dei processi amministrativi favorire processi interni di modernizzazione degli apparati mi pare che un ministro Brunetta l'altro giorno dicesse un po' ste cose credo che la pubblica amministrazione di modernizzazione ne abbia bisogno come il pane sensibilizzare su temi di interesse pubblico e sociale ecco noi oggi lo stiamo facendo spiegando dei giovani amministratori o futuri amministratori cosa sono gli obiettivi 20-30 favoriamo proprio la sensibilizzazione sui temi di interesse pubblico e sociale illustrare le attività e il funzionamento delle istituzioni promuovere l'immagine delle amministrazioni in Italia in Europa e nel mondo dando visibilità a eventi di importanza locale regionale nazionale ed internazionale ecco in queste poche parole sta contenuto il perché noi facciamo anche informazione e comunicazione su tanta progettualità non solo i progetti europei quelli che cerchiamo per avere soldi ma facciamo tanta attività di cooperazione internazionale e diffondiamo i temi della cooperazione internazionale quindi avete capito che questa legge chiarisce il ruolo dell'attività di comunicazione e di informazione e evidenzia la loro importanza proprio per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni all'interno di questa legge sono state per la prima volta appunto nel 2000 specificate le figure professionali che sono coinvolte in questa attività perché ve lo dico perché se siete o sarete pubblici amministratori dovete tenere presente che questa attività esattamente come quella degli ingegneri che costruiscono le strade che fanno la viabilità o che fanno progettano i ponti non può essere fatta fare a chiunque bisogna avere un po' di mestiere e quindi la legge prevede le figure professionalmente coinvolte per quanto riguarda l'attività di comunicazione c'è l'URP l'ufficio relazioni con il pubblico questo è proprio obbligatorio ma ripeto non ci sono multe quindi i piccoli comuni so bene che fanno fatica spesso hanno un sindaco volontario un messo comunale e un indiegato dell'anagrafe ci manca anche che gli imponiamo di tenere l'URP però è il concetto che è obbligatorio venga recepito l'attività di informazione è gestita dall'ufficio stampa che deve essere per legge costituito da giornalisti scritti all'ordine che siano pubblicisti o professionisti noi in città metropolitana siamo tutti professionisti e poi la legge nel 2000 identificava la figura del portavoce come nuova figura figura di nuova introduzione il portavoce è una figura ovviamente facoltativa che è presente nelle realtà più grandi possiamo immaginare nelle regioni nei ministeri evidentemente al governo può essere una figura esterna perché è una figura di stretto riferimento del politico quindi dell'amministratore e quindi lavora a fianco e dipende esclusivamente dall'amministratore temporaneamente in capo ad un ente si occupa anche lui di informazione ma a differenza dell'ufficio stampa il portavoce è un collaboratore diretto dell'organo di vertice dell'amministrazione e ricopre e segue rapporti di carattere politico istituzionale ecco vi ho fatto brevemente il quadro di questa di questa legge insisto nel dire che il mestiere dell'ufficio stampa è comunicare all'esterno dell'organizzazione l'attività il ruolo i progetti e sottolineo che per fare questo bisogna essere credibili la perdita di credibilità di un ufficio stampa in una pubblica amministrazione equivale a un fortissimo danno di immagine per tutta l'amministrazione e di conseguenza per chi l'amministra in quel momento ma proprio per la struttura dell'ente organizzare un ufficio stampa è bellissimo e nello stesso tempo non facile io però ho tanti anni di età e anche di esperienza perché spero di andare in pensione tra 3-4 anni al massimo quindi potete capire che qualche giorno alle spalle ce l'ho e mi diverto a fare questo lavoro mi fa molto piacere che questo corso dedicato ai giovani amministratori o futuri tali possa consentirci di insistere su queste tematiche perché è davvero importante che vi rendiate conto del fatto che il lavoro dei giornalisti della pubblica amministrazione non è un lavoro residuale guardate non lo dico perché ho bisogno di un aumento di stipendio che evidentemente non è questa la sede ma è importante perché si sottovaluta si sottovaluta se non arrivando un giorno ad un momento di comunicazione di crisi ne parlerete con Andrea Vico tra qualche tra qualche giovedì mi pare forse proprio giovedì prossimo con una collega che lavora con me la comunicazione della crisi è fondamentale e quando si è fatto un danno poi è difficile tornare indietro è difficile recuperare quindi bisogna fare un'azione di prevenzione che spesso può apparire un'azione oscura perché non offre risultati immediati ma è un'azione importante per costruire proprio quelle conoscenze quelle capacità credibilità dei comunicatori istituzionali che consentano anche nei momenti della crisi di essere pronti voglio dire che la crisi che stiamo vivendo da un anno e qualche mese a questa parte ha messo duramente alla prova la comunicazione delle pubbliche amministrazioni io l'ho già detto in un altro momento simile a questo e lo ripeto non penso di ritrovare gli stessi uditori ma è importante sottolinearlo io sono rimasta favorevolmente impressionata e favorevolmente colpita da come i sindaci del territorio della città metropolitana abbiano gestito in totale panico la crisi della pandemia da covid lo scorso anno e continuino a farlo credo sappiate tutti e se non lo famete lo ripetiamo perché non fa mai male il nostro è il territorio metropolitano più vasto d'Europa abbiamo 312 comuni il numero più alto di comuni di un ente metropolitano europeo e evidentemente i comuni così numerosi sono anche piccolissimi c'è una polverizzazione sul nostro territorio nelle nostre valli nelle nostre belle montagne enorme di comuni piccoli e piccolissimi dove i sindaci fanno un lavoro da volontari un lavoro benemerito ecco comuni piccoli piccolissimi medi e grandi i nostri comuni della centura poi sono stati veramente bravissimi hanno fatto i sindaci di questi comuni hanno fatto un lavoro da comunicatori e informatori e giornalisti sul campo durante la pandemia molto molto interessante io ho anche candidato un progetto all'unione europea per studiare questo lavoro che hanno fatto intervenendo come testimonial veri e propri testimonial e influencer della loro comunità e se a maggio arriveranno buone notizie sulla vero approvazione di questo progetto ne riparleremo perché naturalmente è un tema che può coinvolgere tutti cosa hanno fatto hanno utilizzato nel migliore dei modi i social i social sono difficilissimi da usare non vi dico nulla di nuovo lo sapete tutti voi molti sindaci hanno preso i loro profili personali perché il 99% dei sindaci di cui parlo non avevano un profilo social del loro comune ovviamente chi glielo gestisce e quindi hanno usato il loro profilo personale nella maggior parte dei casi facebook e lo hanno utilizzato benissimo dando ogni giorno degli aggiornamenti in diretta per interloquire con i cittadini che invitavano a stare giustamente chiusi in casa la zona rossa del 2020 non è la zona rossa del 2021 siamo in zona rossa ma siamo tutti in giro lo sappiamo nel 2020 ci eravamo veramente spaventati stavamo più attenti stavamo più chiusi ma la gente non sapeva non capiva ed era molto preoccupata ecco i sindaci hanno fatto un ottimo lavoro e molti stanno continuando a farlo vorrei chiedere ai nostri partecipanti se hanno piacere di scriverci nella chat un loro contatto social perché mi piacerebbe cominciare a raccogliere i loro profili e poi nel corso delle prossime delle prossime sessioni interlocuire o anche non durante le prossime sessioni se avete piacere e lo volete scrivere in chat credo sia Carla lo facciamo nella prossima sessione perché adesso siamo ancora in un momento diciamo un po' aperto fra un attimo lascio poi a Gianna Betta diciamo la conclusione di questa prima parte della mattinata tra pochi minuti ci troviamo in aula propriamente detta siamo solo fra di noi e quindi nel contratto d'aula abbiamo anche un momento dedicato a questo perché il tuo invito è comunque già contemplato ed è molto importante e ti ringrazio va bene allora guardate io vedo che è mezzogiorno e quindi chiudo avevo una paginetta sull'etica pubblica nella comunicazione ma la tengo perché tanto è scritta qui sono i miei appunti di ieri sera e credo che da qui alle prossime occasioni ci sarà modo ti ringrazio se mi avete ascoltato grazie a te Betta bene direi che la mattinata è stata decisamente interessante ringrazio tutti i relatori e i relatrici perché veramente sono anche personalmente ho ritrovato spunti comunque sempre sempre innovativi sempre nuovi quindi davvero molto interessante allora io ringrazierei davvero tutti e tutte quelle che hanno partecipato diciamo extra extra classe i comuni i partner che ho visto che erano presenti in alcuni in alcuni casi questa mattina in realtà saremmo dovuti essere ad Avigliana in teoria se non fosse stata zona rossa speriamo di riuscire insomma a spostare la presenza la presenza fisica almeno del gruppo classe in quella sede una delle prossime lezioni ringrazio ringrazio ancora tutte e tutti che ci si sposta diamo dieci minuti di pausa naturalmente salutiamo tutti quelli che hanno partecipato e che hanno ascoltato la mattinata grazie mille in particolare appunto a Elisa Palazzi e a Carla Gatti che hanno dato un contributo molto importante ci riaggiorniamo diciamo sulle nostre pagine istituzionali per tutte le novità e le altre iniziative collegate e invece ci ritroviamo a breve con il gruppo classe grazie mille anche a Marco Orlando e a Marco Marocco che ci hanno aperto la giornata grazie ancora alle 12.15 sul link zoom riprendiamo le attività grazie buon lavoro grazie a tutti